qui ci sono delle armi antiaere raggiù quello è un grucco attenzione attenzione soldato nemico siamo attenti c'è un soldato attenzione soldato attenzione soldato We have a dreadnought on route. Halfway there, the enemy has the upper hand. Our dreadnought has arrived. We have taken objective death. We have lost objective apples. Oh, fucks. 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 Ehi! C'è una mitragliatrice! C'è una mitragliatrice! C'è una mitragliatrice! We have lost objective button. C'è una mitragliatrice! We have taken objective Apples. We have taken objective Freddy. ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.